E' sulla scia del nostro telegiornale sportivo, proseguiamo con lo sport, andando a vedere i titoli dei giornali delle pagine sportive di quest'oggi, soprattutto dei quotidiani regionali, iniziamo con il quotidiano, vedete in primo piano c'è il Lecce, anche perché la squadra giallorossa oggi scende in campo alle 18.30, Gotti, allenatore, salvezza meritata, Il Lecce non fa regali, la gara di Salerno è stata il punto di svolta, dove il Lecce tra l'altro ha conquistato proprio con Gotti in panchina al suo esordio la prima vittoria esterna stagionale, giocheremo con professionalità fino alla fine, in questo momento di gioia, ha detto il tecnico, non dimentico che 25 punti me li ha lasciati in dote l'ex tecnico d'Aversa. Dunque, questa invece è la probabile formazione di questo pomeriggio, il 4-4-2 di Mr. Gotti con Falcone tra i pali, difesa a quattro da destra con Gendrei, Pongracic, Baschirotto e Gallo, a centro campo invece da Cerniera sarà composta da destra da Oden, a sinistra Dorgou, mentre Ramadani e Blen andranno a fare i centrali frangiflutti. Davanti il tandem d'attacco composto da Christofic e Holmquist, questa è la formazione di Mr. Gotti che vedremo in campo alle 18.30 al Via del Mare dove si registra una presenza di pubblico molto importante. In dubbio, in attacco, la festa sarà sabato, oggi la sfida con l'Udinese, come ha detto Luca Gotti nel briefing pre-partita, il Lecce vuole affrontare le ultime tre partite della stagione al massimo senza fare sconti ad alcuno. Di conseguenza, oggi, alle 18.30 al Via del Mare, nella sfida contro l'Udinese, scenderà in campo la formazione titolare, priva di alcune pedine di peso, oltre al solito banda, anche Caba e Dermacu, mancheranno anche Piccoli e Sansone. I dubbi riguardano soltanto l'attacco dove Holmquist e Pierotti si giocano un posto, quindi una staffetta al fianco di Christofic. Questo per quanto riguarda il Lecce, tra l'altro vediamo qui in basso anche la classifica della Serie A, il posticipo di oggi va a sommarsi a quello di Firenze dove alle 20.45 scenderanno in campo la Fiorentina e il Monza. E poi il 18 maggio, sabato prossimo, alle 18, il Lecce giocherà ancora in casa contro la fortissima Atalanta di Gasperini, ma una cosa per volta, oggi è il momento di Lecce Udinese. Andiamo avanti adesso con le statistiche che vengono effettuali a Marcord, ecco come titolo del quotidiano. L'indimenticato Mazzone è stato il primo a far festa, ora il Lecce infila la nona. Con la permanenza ottenuta sabato scorso, senza nemmeno giocare, la società salentina raggiunge il traguardo delle nove salvezze in Serie A. La prima risale al 25 giugno 1989, sulla panchina giallarossa sedeva il grande Carletto Mazzone che resta in A battendo 3 a 1 il Torino in casa con i gol di Benedetti Barbas e Paciocco. Poi il 22 aprile del 1990, il Lecce concede il bis, la squadra di Mazzone spugna il campo dell'Ascoli con una doppietta di Beto Barbas. Poi il 7 maggio del 2000, vedete con Alberto Cavasin in panchina, il Lecce batte il Torino 2 a 1 con il gol di Sesa e Conticchio e festeggia la meritata permanenza in Serie A. E così, vedete, si arriva fino ai tempi di oggi con il 2023, il pianto di Marco Baroni al termine della gara a Monza-Lecce 0 a 1 dal 28 maggio del 2023 che decreta la permanenza in Serie A della squadra salentina e poi la festa in Piazza Mazzini che abbiamo documentato con il servizio in esclusiva di Pier Andrea Fanigliulo. Bas Chirotto, lo vediamo, uno dei giocatori più rappresentativi ormai di questo Lecce. e in questa foto c'è anche Ramadani per la salvezza arrivata davanti alla televisione grazie al K.O. del Cagliari che di fatto, in virtù degli scontri diretti, consegna il premio salvezza, la matematica certezza della salvezza ai giallorossi. Andiamo avanti adesso parlando di Serie C perché hanno tenuto banco i play-out del campionato di Serie C. La Virtus Francavilla, la nuova Redo Arena, pareggiato 1 a 1 con il Monopoli. Monopoli che era passato in avvantaggio con un gol di Sosa nel secondo tempo, poi il pari è giunto nell'extra time con un gol di Monte Agudo su assist di Macca. C'è chi assegna questo gol a Monte Agudo, chi a Macca come il quotidiano. Vediamo, la Virtus Francavilla non si arrende, pari al photo finish con il Monopoli. Ci sono tutti i commenti in merito a questa partita e poi parla anche l'allenatore Biancazzurro, siamo vivi, salvezza ancora possibile. Succede tutto nel secondo tempo, nell'ultima mezz'ora, ospiti in vantaggio con Sosa, poi ci pensa Macca, domenica il ritorno. Eravamo senza due attaccanti, nella Virtus non c'era artistico, siamo stati bravi, dice l'allenatore della Virtus Francavilla, e la crederci sempre al Veneziani ce la giocheremo, dunque ancora 90 minuti per stabilire chi resterà in Serie C tra queste due squadre. I play-off, vedete il titolo quasi a tutta pagina, Taranto, ora c'è il Vicenza, i play-off per la Serie B proseguono con la sfida con i Biancorossi, gara di andata, scrive Mimmo Carrieri, domani sera allo Iacovone e poi sabato, 18 maggio al Romeo Menti di Vicenza. Capuano, abbiamo preso la squadra più forte sulla carta, sarà una sfida combattuta, vediamo l'attacco al pezzo del quotidiano di Mimmo Carrieri, dall'urne uscito il Vicenza e così nel primo turno della fase nazionale dei play-off il Taranto proverà a giocare. Un match da fascino antichissimo con il sapore vintage di una Serie B, la Serie B che manca da 31 anni, o meglio è stata questa la prima reazione emotiva degli over 50 al sorteggio di ieri mattina. Infatti l'ultima partita fu giocata con l'Anerossi-Vicenza a Taranto nell'aprile, 10 aprile 1977, finì 0-0 ed era l'Anerossi-Vicenza dell'indimenticabile Paolo Rossi. Capuano ha parlato di questa partita analizzando il tutto alla formazione di Ezio Capuano, è capitato un avversario ad alto tasso di difficoltà, come lo stesso trainer scrive il quotidiano, ha commentato ad Antenna Sud. Poi vediamo qui due protagonisti, anzi tre protagonisti, in questa foto il pubblico dello Iacovone, poi sotto l'allenatore Capuano e Loris Zonta, protagonista in assoluto perché? Perché lui è nato a Vicenza, ha giocato praticamente cinque stagioni con la maglia dell'Anerossi-Vicenza, di cui due in Serie B ed è di proprietà del Vicenza adesso per quest'anno in prestito alla Taranto, per lui sicuramente sarà una gara particolare. Si giocherà contro la terza forza del Girone, tra gli ex c'è Zonta, poi Veneti in BNC per cinque stagioni, come dicevamo, poc'anzi. Non c'è più l'eliminazione diretta dopo 90 minuti e c'è il discorso legato alle gare di andata e ritorno. Vediamo questo titolo, debiti e penalizzazioni, il futuro del Brindisi resta incerto, si cerca di salvare il titolo sportivo per il Brindisi che è appena retrocesso in Serie D, due piste percorribili, una cordata romana e l'imprenditore tedesco Peter Dolic. Ecco il Martina, siamo ai play-off di Serie D sul quotidiano. Il Martina fa trisse, vola in finale, prova di forza contro il Casarano. Il tecnico Pizzulli una prova di maturità, mentre l'allenatore la terza, noi sempre poco cinici. 3-0 il risultato finale per il Martina contro il Casarano. Vedete anche la curva dello stadio Tursi, due reti di Palermo e un gol di Virgilio. Decidono la gara e Biancazzurri di nuovo in campo tra sette giorni. Sarà Martina Nardò la finale play-off del Girone H. Missione compiuta per il Nardò con l'Andria, basta un gol di Danna. Il gol giunge al 33esimo del secondo tempo. Nardò, Fidelisandria 1-0, i giocatori del Nardò in questa foto che festeggiano la fine squadra, la fine gara, scusate, poi vedete Costantino tecnico, vittoria meritata. Questa squadra sta molto bene e quindi c'è questo super match tra Martina e Nardò per la finale play-off. E poi le note dolenti, purtroppo dobbiamo registrare la dolorosa retrocessione del Gallipoli che saluta la Serie D. Gli uomini di Gennari sconfitti ad Angri per 2-0, i giallorossi tornano in eccellenza dopo un anno. Decidono le marcature Ascione e Monsur, i salentini pagano un brutto finale di stagione. Auguriamo al Gallipoli una pronta risalita nella massima categoria del calcio direttantistico. Bocche cucite a fine gara e tanta la delusione. Negli spogliatoi i giocatori in lacrime, tanta amarezza per una salvezza sfumata soltanto nello spareggio. Il 4-5-1 inedito non è servito per vincere nella ripresa, il penalty ha tagliato le gambe e quindi poi è giunto anche il raddoppio della formazione campana con Monsur su calcio di rigore. Dunque un gol nel primo tempo, l'altro nella ripresa. Poi andiamo avanti con il basket, vedete Nardò esulta contro Latina. Primo successo nella pool salvezza per i Neretini che conquistano punti pesanti per la permanenza. Dal monte può tirare un sospiro di sollievo, quindi questo è il commento. Mercoledì sera altro scontro importante a chiusi nella pool salvezza di serie A2. Quindi Nardò che vince 66-60 come vediamo e poi il prossimo turno che si terrà il 15 maggio vedrà la formazione dell'HDL e Nardò giocare contro l'Umana a chiusi mentre le altre partite saranno Munkada Grigento contro Latina e Tramek Cento contro Luis Roma. Proseguiamo la nostra rassegna stampa andando a vedere gli altri sport. Selva di Fasano vince Fagioli. Il campione italiano fa su alla 65esima edizione, successo numero 12 nella competizione, record grande successo di pubblico per la storica corsa, la Selva di Fasano. Presenti la Selva, Fasano, Selva. Presenti alla manifestazione anche Florio, Fiorio e Fisichella. La palla a volo, vedete qui al centro della pagina, la Superlega, altro colpo della Prisma, Gironi torna a Taranto. Dunque il ritorno del guerriero, scrive il quotidiano, nella città dei Due Mari, dopo due anni lo schiacciatore Fabrizio Gironi tornerà a vestire la maglia della gioiella Prisma. Melendugno e Aurispa, il mercato entra nel vivo. Siamo nella serie A2 e serie A3 di volley. In questa foto l'allenatore è giunta che è ad un passo dalla panchina del Melendugno. Grottraglie in pole per la serie A3, il volley club Grottaglie. Poi Fasano e Conversano nella palla a mano al via i playoff. Dunque si chiude qui la pagina sportiva dedicata alla segna stampa dedicata allo sport. Riprendiamo adesso con la cronaca perché c'è stato un incidente anche piuttosto spettacolare, grave, che si è verificato a Taranto. Abbiamo le immagini di questo incidente che tra poco vi mostreremo. Intorno alle 21.30 ieri sera nella centrale via Trentino si è verificato questo incidente. Vedete che un'auto si è ribaltata, una Seat Tarona, un uomo e una donna sono rimasti seriamente feriti in seguito a questo scontro verificato a Taranto nella serata di ieri. A bordo della Seat Tarona dopo aver imboccato via Puglie provenendo da Viale Trentino la donna alla guida ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare andando prima a sbattere violentamente contro una Ford K parcheggiata per poi rimbalzare su un Alfa Romeo 159. Forse a causa dell'alta velocità ma è tutto da verificare. L'auto si è capavolta carambolando su altre due vetture in sosta, una Skoda e una Seat Ibiza. Sul posto sono intervenuti, come avete visto, i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre i due poi trasportati in ospedale in codice rosso. Comunque poi vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni dei nostri tre giornali sulle condizioni dei due feriti di questo incidente che è avvenuto nel pieno centro cittadino di Taranto in via Puglie, angolo via Trentino. I feriti sono stati soccorsi da due autoambulanze del servizio sanitario di pronta emergenza 118. Le immagini che vedete sono state realizzate dal nostro Francesco Manfuso. Andiamo avanti adesso con un servizio che giunge dal Salento. Parliamo di moda in qualche frangente perché vi proponiamo questo pezzo sulla stilista Salentina Arianna Mucci. Vediamo il servizio. Il brand della stilista Salentina Arianna Mucci, dopo aver fatto il suo esordio sulle passerelle della Milano Fashion Week, ha lanciato una nuova linea di moda sostenibile che avanza al motto di Quality over Quantity, in contrasto con la Fast Fashion che spopola nel mondo al giorno d'oggi. Infatti colgo l'occasione per unirmi ai miei colleghi stilisti, artisti, artigiani del settore. In questa guerra addirittura si parla ultimamente di ultra fast fashion, stiamo parlando di tantissime quantità notevoli di capi nuovi prodotti ogni anno. Quindi vuol dire che stiamo parlando di scarsa qualità, di cose fatte di fretta, senza cura, con materiali nocivi anche alla salute e all'ambiente. Invito i consumatori ad acquistare locale soprattutto, anche per esempio le boutique che investono in capi di abbigliamento, accessori eccetera, di dare una mano al Made in Italy, a questa eccellenza italiana. Intanto c'è una notizia di cronaca appena giunta in redazione, un'ultima ora, arresti della Polizia di Stato per induzione e sfruttamento alla prostituzione minorile. Alle prime luci dell'alba di oggi a Bari, Roma, Trani e Lecce, gli agenti della squadra mobile della questura di Bari hanno eseguito un provvedimento cautelare messo dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 10 persone, 4 donne, 6 uomini, sfruttamento della prostituzione minorile, poi ovviamente approfondiremo tra i nostri tre giornali, ma anche sul nostro sito www.antenasud.com. Ricordiamo dunque due operazioni da parte delle forze dell'ordine all'alba di oggi, una nell'abbatto, operazione Bovio che ha portato all'esecuzione di 14 ordinanze cautelari a Minervino-Murge per presunta detenzione spaccio di sostanze stupefacenti, l'altra contro la prostituzione minorile a Bari, 10 arresti, dunque è stata una mattinata intensa per le forze dell'ordine, nella BAT hanno operato i carabinieri, a Bari e provincia hanno operato gli uomini della polizia di Stato, complessivamente abbiamo ben 24 arresti tra operazione antidroga e quella contro lo sfruttamento della prostituzione minorile. Ci fermiamo adesso, un po' di pubblicità. Dunque torniamo sulla notizia data poco fa, ovvero l'operazione antiprostituzione minorile che è stata portata avanti dalla polizia di Stato a Bari nelle scorse ore dall'alba di oggi, dunque ci sono ben 10 ordinanze di custodia cautelare che sono state eseguite. Stando a quello che si è appreso, il tutto nasce da una denuncia fatta dalla madre di una di queste tre ragazze di 16 anni che sarebbero state indotte alla prostituzione, sono coinvolti nella vicenda quattro donne rispettivamente di 35, 21, 25 e 24 anni, un 29enne e un 25enne barese, tutti sono stati arrestati e tradotti in carcere con l'accusa di aver indotto, favorito e sfruttato e gestito, ma anche organizzato la prostituzione di tre ragazze minori d'età, traendo un ingente guadagno dalle prestazioni sessuali offerte dalle minori. E per quanto riguarda le indagini, come dicevamo, sono nate in seguito alla denuncia presentata dalla mamma di una 16enne che ha notato comportamenti anomali della figlia, ha riscontrato la sua frequentazione con una maggiorenne descritta come escort operativa nella regione delle Marche. Poi le forze dell'ordine, la Polizia di Stato ha effettuato pedinamenti, appostamenti e intercettazioni con una pluralità di audizioni, comprese quelle delle minori coinvolte nella prostituzione e eseguite con l'ausilio di psicologhe che hanno consentito di acquisire elementi investigativi che hanno poi condotto all'operazione di Polizia eseguita questa mattina. I fatti si sono consumati in alcune strutture ricettive anche di lusso delle province di Bari, della BAT, infatti diciamo che l'operazione è stata svolta dalla Polizia non solo a Bari ma anche a Trani e a Lecce. Ha operato la squadra mobile e coinvolta anche la capitale. Dieci le ordinanze di custodia cautelare che sono state eseguite dalla Polizia di Stato durante le prime ore del mattino. Torneremo su questo argomento, vi consiglio di visitare il nostro sito www.antenasud.com dove ci saranno costanti aggiornamenti in merito a questa vicenda e poi ci sarà il servizio nel corso del telegiornale regionale a partire dalle 13.15 che riepilogherà, vi darà notizie in più in merito a queste due operazioni. Quella contro la prostituzione minorile di cui stavamo parlando, dieci arresti, mentre sempre all'alba di oggi nella BAT Minervino-Murge c'è stata questa operazione antidroga da parte dei carabinieri che ha portato a 14 arresti per spaccio di cocaina in particolare nel comune di Minervino-Murge. Dunque ci sarà anche qui una conferenza stampa dei carabinieri della BAT a Trani, vi forniremo notizie dettagliate su entrambe le operazioni. Quest'ultima dei carabinieri della BAT, operazione denominata Bovio. Andiamo avanti adesso con un servizio che giunge dal Salento. Entro il 2028 dovrebbe completarsi l'opera del percorso ciclopedonale in Salento che dovrebbe collegare Otranto a Santa Maria di Leuca. Vediamo il servizio di Francesco Schiavano. Con la prima conferenza dei servizi tra la provincia di Lecce e gli enti coinvolti è iniziato il percorso di approvazione della progettazione preliminare che porterà entro il 2028 alla realizzazione di un sistema stradale finalizzato alla fruizione ciclopedonale della costa adriatica la quale attraverso i suoi 57 chilometri va da Otranto fino a Santa Maria di Leuca per un investimento complessivo di 22 milioni di euro. Devo dire una prima conferenza molto propositiva da parte degli enti a cui va il nostro ringraziamento, la presenza dei Lecce e anche i comuni coinvolti su tutto il percorso. Contiamo ovviamente ad arrivare a un parere preliminare entro i 60 giorni per poi dopo adeguare alle loro richieste la progettazione di fattività tecnica economica e indire la procedura di gara di rapporto integrato, lavori e progettazione esecutiva entro al massimo il mese di settembre. Contiamo di cominciare i lavori entro il primo semestre dell'anno 2025 e terminarlo così come da cronoprogramma il 31 dicembre del 2027. L'itinerario realizzato sulla sede stradale già esistente rispettando i criteri di ecosostenibilità sarà di due tipologie. La pista ciclabile in sede dedicata di colore verde collegata da tratti di itinerario intermedio sulla carreggiata stradale dove sarà posato un nuovo asfalto. Nei pressi dei maggiori punti di attrazione turistica saranno realizzate 20 aree dedicate alla sosta in sicurezza e all'osservazione del panorama circostante. Un'esperienza che a breve si aggiungerà alle altre in via di realizzazione dalla provincia di Lecce la quale prosegue con interventi di destagionalizzazione turistica e valorizzazione del patrimonio ambientale. Vedremo con questa opera un'enorme visibilità perché sarà un'opera che abbiamo raccontato sostenibile di limitazione del traffio di sicurezza e con l'intelligenza artificiale contiamo di munirla adeguata per tutte le stagioni. Doppio senso in estate senza nessun problema e senso unico sempre se riusciamo diciamo per farla diventare una vera pista ciclabile da Otranto a Santa America per tutto il resto dell'anno. Restiamo in Salento adesso un concorso per i futuri fisici e matematici italiani che si è svolto al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Maglie. Un concorso per i futuri fisici e matematici italiani quello svolto al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Maglie. Un evento organizzato in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presieduta dal direttore della sede INFN di Lecce il professore Daniele Martello. È un concorso, un certame di matematica e fisica in cui sono stati selezionati i ragazzi provenienti da tutti i licei e tutte le scuole diciamo nazionali elementi più brillanti, quelli con le medie migliori, che hanno ottenuto risultati migliori per questo certame di matematica e fisica voluto dal liceo di Maglie in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che quindi l'ha fortemente sostenuto per premiare l'eccellenza sostanzialmente delle scuole e dei licei italiani. Dirigente, un evento nazionale presso il suo liceo? Sì, il primo anno di questo certamen Leonardo da Vinci che verte su quelle che sono le competenze dei ragazzi in matematica e fisica. C'è stata una selezione rigidissima con ragazzi che eccellono appunto in queste materie quindi qui abbiamo il gota dei ragazzi che appunto ottengono risultati brillanti nelle discipline scientifiche di matematica e di fisica. Sono circa 80 ragazzi provenienti da tutta Italia. Adesso a Brindisi per un concerto che ha inaugurato la rete Orfeus in occasione della settimana della musica. Anna Saponaro. Due concerti a Brindisi a San Pancrazio Salentino organizzati sul territorio provinciale in occasione della settimana della musica di scena dal 6 all'11 maggio. L'evento inaugurale si è tenuto nel nuovo Teatro Verdi del comune capoluogo alla presenza delle istituzioni, dei dirigenti scolastici, del consulente per la candidatura di Brindisi a Capitale della Cultura 2027, Chris Torch. Protagoniste le scuole della rete Orfeus, obiettivo educare l'uomo attraverso la musica. La settimana nazionale della musica, voluta dal Ministero e dall'Indire, anche quest'anno vede qui su Brindisi il gran concerto inaugurale della rete Orfeus e della gioia più grande vedere questi bambini insieme agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado riuniti nel coro e nell'orchestro Orfeus e ogni anno è un'emozione che si rinnova. Quello di questa sera è sicuramente un bellissimo esempio di sinergia, sinergia fra tantissime scuole che afferiscono alla rete Orfeus. Chiaramente quando si procede da soli si fanno tanti percorsi ma insieme sicuramente si arriva molto più lontano. Sono dei momenti importantissimi come quello di Erno dove la musica unisce e unisce le scuole e dà un grande valore alla crescita dei propri alunni che possono appunto crescere con queste performance musicali. Ed è un momento di crescita anche per noi dirigenti scolastici di Brindisi della provincia per poterci incontrare perché durante l'anno scolastico è difficilissimo visto i tanti impegni che abbiamo. Quindi è un condividere anche per noi un momento importante. Ormai è un appuntamento rinunciabile anche per noi dirigenti scolastici. È tornato in Riva Lognonio il Taranto Comics. Tanti gli appassionati di fumetti e videogiochi per questo evento di primavera. Sentiamo Leo Spalluto. Lo vedremo più tardi questo servizio. Andiamo a Lecce nuovamente. Quarantunesima edizione delle Olimpiadi Balcanica e di matematica svolta in Bulgaria. Tra i partecipanti anche la squadra italiana e con loro un giovanissimo leccese. Dal 28 aprile al primo maggio a Varna in Bulgaria si è svolta la quarantunesima edizione delle Olimpiadi Balcanica e di matematica che ha visto oltre 130 partecipanti provenienti da 22 paesi cimentarsi sulla risoluzione di problemi matematici. Tra questi anche la squadra italiana composta da sei studenti straordinari, tra cui Lorenzo Degliatti, studente del liceo scientifico Banzi di Lecce che ha conquistato la medaglia di bronzo. Lorenzo Degliatti non è nuovo salire sul podio, tanto è vero che ha conquistato sempre come individualista la medaglia d'oro alle Olimpiadi della matematica cesenatico svoltesi nei giorni scorsi e curate dall'Unione Matematica Italiana sul mandato del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Per me è stato un onore partecipare alle Olimpiadi di matematica e ho rappresentato il mio liceo, il liceo Banzi. Ho partecipato già due anni fa e l'anno scorso e ho preso due anni fa la medaglia di bronzo e l'anno scorso una medaglia d'oro. Anche quest'anno ho preso una medaglia d'oro, arrivando quarto a livello nazionale. Si tratta di gare matematiche rivolte ai ragazzi delle scuole superiori, i cui partecipanti si cimentano a provare soluzioni creative, basilari per comporre le squadre italiane per le manifestazioni internazionali. Il liceo scientifico Banzi di Lecce è entrato a pieno titolo nell'Olimpo per disputarle grazie a Lorenzo Degliatti. Un liceo scientifico fornisce la preparazione adeguata e vincere un oro, arrivare quarto tra 300 individualisti e accessenatico per uno studente che è così appassionato di matematica rappresenta la massima aspirazione. Finisce così questa edizione della nostra informazione che è iniziata alle 6.45, tra poco vi ricordo l'appuntamento con Mattina Sud alle 9.30, curato la parte tecnica Fabio Pignatelli, grazie per l'attenzione e buon lunedì 13 maggio a tutti i nostri telespettatori. Arrivederci. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.